Allora, emissione della fattura elettronica. Io qui ho emesso la mia prima fattura numero 1 e l'ho emessa come siete abituati a fare normalmente, cioè in questo caso io non ho documenti di trasporto, quindi mi sono semplicemente creato un nuovo documento dove ho scritto quello che io fatturo al mio cliente. La numerazione, ho creato la serie 2019, per crearla basta cliccare su questo menu, questa tendina, andare a creare la serie, ma potete anche non crearla, cioè io l'ho fatto, se volete crearla cliccate su altro e poi qui aggiungete qua sotto la serie che volete, quella nuova, e poi l'andate a selezionare. Comunque io, ad esempio qua, io ho scritto barra 2019, ok? Poi l'ho selezionata quando il numero, il sistema mi ha proposto il numero 1 e ho scritto il mio contenuto della mia fattura. Normalmente come si è sempre fatto, verificate che il pagamento abbia la sua risorsa, quindi vedete cassa contanti, risorsa, se non ce l'ha, cliccate due o tre volte sulla scadenza e vi viene aperta questa mascherina dove potete modificare la data, scegliere una risorsa diversa da quella che vi viene proposta, l'importante è che ci sia, è obbligatorio. Quindi ok, e magari attenzione che il flag non sia già flegato come saldato, perché di solito di default è così, quindi nel caso lo troviate già flegato, lo splegate. Quindi qui va tutto bene, torniamo alla fattura elettronica qui, vabbè, queste cose adesso a me non servono, dopo magari vi dirò cosa si può aggiungere. E quindi eme la fattura qui va bene. A questo punto io la clicco su fattura elettronica per emetterla. Mi dice, lega alla fattura elettronica PDF del documento, fatelo, fatelo perché è utile, cioè il cliente riceverà oltre al file XML anche un PDF con la fattura che voi gli state inviando. Danea fa tutto lui, quindi tanto vale farlo, insomma. Quindi invia, lui mi fa l'esportazione, vedete, invio della fattura, invio concluso. Quindi ok. Allora, questa fattura, quindi io l'ho emessa, per vedere se l'invio è andato a buon fine, a parte che lo sblocca, andate sulla linguetta fattura elettronica, fattura inviata tramite il servizio Agio, verifica stato, cliccate qua. Lui mi dice, vabbè, qui ho trovato un problema nella comunicazione con Agio, vabbè, buon viaggio. Comunque, il bello della diretta, vi dovrebbe far vedere a che punto è questa fattura. Quindi premo ok e chiudo. Quindi questa è l'emissione della fattura elettronica. Come vedete, niente in tutto. Scriviamo Danea. Allora, ho riaperto di nuovo Danea dopo qualche minuto, perché volevo verificare quel problema che vi avevo fatto vedere prima nella diretta, nell'emissione della fattura elettronica, cioè la verifica dello stato dell'invio. Cliccando su verifica stato del documento, come vedete, mi esce questo messaggio di errore. In questo caso non è di errore, è stato tale della fattura inviata allo SDI, che dimostra, appunto, che poi probabilmente occorre aspettare almeno qualche minuto prima di verificare che tutto sia andato a buon fine, perché io avevo fatto la fattura inviata, poi ero subito andata a vedere l'esito dell'invio, probabilmente sono stata un po' troppo precipitosa e di conseguenza mi è uscito quel messaggio d'errore. Ma adesso, rifacendo di nuovo la verifica, dopo un po' di tempo, dopo poi 5 minuti, lo stato mi ha inviato allo SDI. Allora, non l'avete visto perché questa qui è la prima prova che faccio e ho fatto una registrazione precedente che non era andata a buon fine, ma nel momento in cui fate l'invio della fattura elettronica, il sistema controlla anche che ci sia tutto a posto nel documento. Quindi, può capitare, a me è capitato, ad esempio, che per questo cliente avevo indicato il codice fiscale, l'avevo scritto nel campo partita IVA, allora mi ha segnalato che non andava bene e quindi ho interrotto l'invio facendo annulla e ho chiudi, adesso non mi ricordo, ma credo sia chiudi, e sono andata nell'anagrafica e ho messo a posto il codice fiscale. Ho ripetuto l'invio, mi ha segnalato che c'era un errore nel CAP dell'indirizzo, l'ho riscritto e una volta terminate queste correzioni, l'invio è andato a buon fine. Quindi non vi spaventate se vi trovate questi messaggi, non dovete fare altro che cliccare su chiudi, invece di inviare il documento, cliccate su chiudi, fate le correzioni che vi vengono segnalate, poi ritentate l'invio, fin tanto che non avete corretto tutto, perché se ci sono degli errori, lui non ve lo fa l'invio, io ho provato, ma rimane fermo, quindi dovete farle queste correzioni. C'è da portare un po' pazienza, perché purtroppo le prime fatture ne risentiranno di queste cose, quindi se avete scritto delle anagrafiche un po' in qualche modo, spero di no, è probabile che vi possa capitare questa cosa. Allora, adesso io premo OK e esco da qua, se vado nel solito menu strumenti, mostra fatture elettroniche, scarica fatture elettroniche, ad esempio, qua se io vado a selezionare emesse invece di ricevute, come vedete mi fa vedere l'invio della fattura la prima volta che mi era stato scartato, perché mi diceva che il codice di interscambio non era valido, cosa che era un po' strana, perché in realtà lo dovrebbe essere. Poi mi fa vedere il secondo invio che io ho fatto, con tra l'altro sempre lo stesso codice di interscambio, tengo a sottolineare perché non l'ho cambiato niente, e invece in questo caso è partito. Quindi, come dicevo, è evidente che il sistema in questa fase ancora qualche maghetto ce l'ha, quindi fate attenzione, ma non vi preoccupate, insomma, se poi ci sono dei problemi, sapete che ci sono sempre a disposizione. Grazie. 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 Grazie.